10 Lusail Stadium, in attesa del Mondiale 2022. Il Mondiale di Calcio del 2022 si svolgerà in Catare una delle sue sedi sarà il Lusail Stadium. Per la prima volta un mondiale si giocherà in Medio Oriente. Il Lusail Stadium si trova ancora in fase di costruzione, ma una volta che avranno ultimato i lavori, si trasformerà nel decimo stadio più grande del mondo, pronto ad accogliere fino a 86.000 spettatori. 9 Stadio nazionale Bukit Jalil. Questa arena situata a Kuala Lumpur è uno dei dieci stadi più grandi del mondo. Più precisamente, si trova al nono posto e può ospitare 87.400 spettatori. Nello stadio nazionale Bukit Jalil normalmente gioca la nazionale di calcio malese. Accolse, inoltre, le competizioni della Coppa d'Asia e dei giochi del Commonwealth. 8 Stadio azteca, uno degli stadi più imponenti al mondo. Lo stadio azteca di Città del Messico può accogliere ben 87.520 spettatori. Questa tribuna sportiva fu testimone delle prodezze di Diego Armando Maradona nel Mondiale di Calcio del 1986. Quel campionato del mondo, che fu vinto dall'Argentina, è ricordato come uno dei migliori nella storia del calcio a livello mondiale. L'azteca è anche un'icona del calcio messicano, essendo stato la sede di molti incontri nazionali e di squadre come la cruza sull'Oil Club America. 7 Wembley Stadium, un'icona del calcio europeo. Non mi ha mai spinto il denaro. Avrei giocato anche senza aver guadagnato nulla. Avrei pagato per giocare nello stadio Wembley. Questa frase dell'ex calciatore Eric Cantona riassume ciò che rappresenta lo stadio Wembley di Londra per molti giocatori e tifosi, un'icona del calcio europeo. Dopo l'ultima ristrutturazione, questo stadio può accogliere fino a 90.000 spettatori. Lo stadio Wembley di Londra fa parte della storia del calcio, sede delle finali di FA Cup e di alcune finali di Champions League, è il luogo dove abitualmente gioca le sue partite la nazionale di calcio inglese. Nel 2021 ha ospitato alcune partite del campionato europeo, compresa la finale. 6 Rose Bowl Stadium. Situato a Pesadina, a due passi dalla città di Los Angeles, il Rose Bowl Stadium è il sesto stadio al mondo per grandezza, potendo accogliere 92.600 spettatori. Anche questo stadio fu testimone di eventi sportivi importanti, dato che qui si svolsero varie finali del Super Bowl. Nel Rose Bowl Stadium della California si giocarono anche vari incontri del mondiale di calcio del 1994. 5 Soccer City di Johannesburg. L'11 luglio 2010 a Johannesburg si giocò la finale del primo mondiale di calcio celebrato in Africa. La partita si svolse nel Soccer City, il quinto al mondo, con una capienza di 94.700 spettatori. Anni prima, il Soccer City aveva già segnato la storia, nel 1996 la nazionale sudafricana di calcio vinse il suo primo titolo nella Coppa delle Nazioni Africane. 4 Camp Nou, lo stadio più grande d'Europa. Il Camp Nou di Barcellona non è solo uno degli stadi più grandi del mondo, ma anche quello con la maggior capienza in Spagna e in Europa, può accogliere, infatti, 99.350 spettatori. La sede dell'FC Barcellona è un simbolo nel mondo dello sport mondiale, dato che oltre a ospitare le partite del Barça e alcune finali della Champions League, come quella del 1999, qui si svolse anche la finale dei giochi olimpici del 1992. Nel Camp Nou, inoltre, si esibirono delle leggende del mondo della musica, come Michael Jackson, Bruce Springsteen e Julio Iglesias. 3 Melbourne Cricket Ground. 2 Michigan Stadium, sede delle squadre universitarie. Nel secondo stadio più grande al mondo non si svolgono molte partite di calcio, ma si gioca a football americano. Si tratta del Michigan Stadium, che con una capacità di 107.600 spettatori è il più grande degli Stati Uniti. Questo stadio si trova a Den Harbour e appartiene all'Università del Michigan, motivo per cui ospita periodicamente le partite della Lega Universitaria di Football Americano, una competizione seguita con passione da molti tifosi negli Stati Uniti. Un rungrado Mayday Stadium, lo stadio più grande del mondo. Sfatiamo un mito, tanto per cominciare, per vedere lo stadio più grande del mondo non bisogna andare al Rio de Janeiro. Durante una visita in Brasile, potremmo vedere il Cristo Redentore o le bellissime spiagge di Ipanema e Copacabana, ma non visitare uno stadio di grandi dimensioni. Infatti il Maracana è il 26esimo stadio più grande del mondo, con una capacità di 78.838 spettatori. Lo stadio sportivo più grande del mondo è infatti il rungrado Mayday Stadium, situato a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord e in grado di accogliere addirittura 114.000 spettatori. Viaggiare fino alla Corea del Nord è abbastanza complicato, quindi lo stadio più grande del mondo è anche lo stadio più grande del mondo.